Allora, la formazione dell'Inter ha il turnover che si può fare, nel senso che non aveva grandissime soluzioni considerando gli infortuni in Zaghi. Quindi Audero in porta, la difesa rimane quella perché Sipa Varva in panchina ma non è ancora pronto, quindi Bisse e Cacerbi bastoni. Darmiana destra perché Quadrado e Dunfri sono infortunati, Frattesi, Aslani e Klassen, quindi riesce a riposare Barella e riesce a riposare Cialanoglu. Carlos Augusto a sinistra dal fiato a Di Marco, Lautaro davanti invece gioca insieme ad Arnautovic in panchina a Vaturam, Sanchez non è neanche in panchina perché non è ancora recuperato, quindi si fa il turnover che si può. Per quanto riguarda invece il Bologna, anche il Bologna di Tiago Motta fa turnover, gioca a Ravaglia in porta, Corazza, Lukumi, Beukema e Lico Giannis, difesa 4, Abish e Remoro in mezzo, quindi per esempio non c'è Ferguson. Fabian che gioca titolare, ex Inter, Urbanski e Salia Mecker con davanti Ivan Oidonk, quindi questa è la formazione di Tiago Motta che fa anche lui un bel turnover. Adesso io chiedo sempre l'arbitro e credo che ahimè diventa sempre più importante. L'arbitro io non li riguardo mai, non lo so. È vero, infatti rimaniamo, sono anni che io chiedo l'arbitro a Filippo e Filippo invece rimane. Allora, caro Giacomo Ferri, questa è l'Inter, anzi no, prima lo chiedo a Filippo e poi in base alla sua risposta vengo da tutti voi. È l'Inter che ti aspettavi? Sì, sì sì, per forza, perché turnove bisognava farlo, in difesa non lo puoi fare, quindi va bene così. Davanti deve giocare Lautaro, anche se c'era la possibile soluzione di far giocare Klassen seconda punta con Arnautovic davanti, però due veramente lenti davanti forse non era il caso. Quindi Lautaro gioca e vediamo quanto giocherà. Però sì, mi aspettavo una cosa del genere. Giacomo? Sì, no, penso che sia. No, perché quella di Champions è stata criticata, no? Troppo turnove, quindi ogni formazione chiedo come ne pensiate. È normale, è sempre così, perché se avesse passato il turno in Champions non diceva niente nessuno. Però, detto questo, io credo che l'allenatore fa bene, in questo caso Inzaghi, a fare il turnove, perché altrimenti diventa un problema, non puoi arrivare alla fine dell'anno sempre con i soliti undici. È chiaro che ci sono dei giocatori che stanno riprendendo sotto l'aspetto fisico, tipo Arnautovic, è giusto che faccia, io spero che faccia 90 minuti. Poi devi recuperare Sanchez, che nel momento in cui recuperi dei giocatori che hanno dei problemi fisici, anche l'allenatore ha più possibilità di farti un turnove. Ma vediamo che anche il Bologna comunque sta facendo questo. Allora, tra l'altro, l'arbitro sarà il signor Federico Lapenna e Alvar Serra. Ecco, lo dico anche perché il prossimo argomento, mentre faremo un ping pong tra cronache e appunto argomenti di discussione, è proprio la presa di posizione forte di Rocchi, che ha difeso l'operato dei suoi anche contro evidenze che sono state sotto gli occhi di tutti. Tiziano, cosa pensi del... beh, la formazione ti lascia sorpreso e la formazione... No, non mi lascia sorpresa, però sono curioso di vedere quale sarà il rendimento di una squadra all'Inter che fa giustamente diverse sostituzioni, soprattutto al centrocampo. A mio modo di vedere, il centrocampo dell'Inter è stata la chiave di volta del gioco redditizio, sia in fase offensiva che in fase di contenimento. Proprio perché i centrocampisti erano bravi a inserirsi e a proporre gioco davanti per le punte. L'assenza di giocatori importanti come Barelli e Salernoglu, cioè mi incuriosisce... Certo, certo, ti incuriosisce, è una prova alla quale il centrocampo dell'Inter non sia quasi mai sottoposto. Bargigia, una prova giusta in Coppa Italia contro il Bologna? Secondo me sì, a maggior ragione, visto che è stato fatto turnover in quasi tutti i match del girone di Champions, tranne uno, credo, e da lì si evince anche, a parte una logica, perché comunque se c'è una squadra che ha una rosa profonda è l'Inter, quindi tutto sommato io dico rispetto ad altre squadre in Italia, o a poche altre possono competere con una profondità di rosa del genere, ma poi a maggior ragione nella stagione in cui è stato dichiarato da Zanga, soprattutto da Zanga, che l'obiettivo è la seconda stella, quindi il focus è sul campionato e non dimenticando gli inciampi delle passate stagioni, ma anche dello scorso anno, quindi credo che ci sia un'attenzione quasi maniacale nella gestione delle risorse e delle scelte. Ecco, ieri il Napoli ha fatto un massiccio turnover, poi ha rimesso i titolari e ha fatto un pasticcio incredibile. Non penso che succeda all'Inter perché poggia su altri equilibri e su altri automatismi. Poi oltretutto lo fa anche il Bologna, quindi... Ecco esatto, è un turnover condiviso anche dall'avversario. Il campionato del Bologna attualmente, anche Tiago Motta magari attualmente guarda forse più al campionato, visto che adesso non credo che pensi di poter arrivare tra le prime quattro, però una qualificazione in Europa, secondo me, comincia a essere nella testa di Tiago Motta e dei suoi giocatori. Adesso è libero, adesso è il quarto posto. Adesso è il quarto posto e ha messo dietro Napoli e Fiorentina, per esempio. Beh, ragazzi, sarebbe anche per lui, insomma, visto che è uno degli allenatori più... È bravo, è bravo. Sì, è bravo. Più richiesti, credo, anche nel mercato futuro. Lui palladino, De Zervo... Per essere bravo è bravo, sicuramente, però io credo che adesso siamo un po' troppo... È un po' troppo presto. Se giudichiamo quello che sta facendo dalla prima giornata ad oggi, sicuramente sì. Su quello che ha fatto in passato, secondo me, ha fatto bene. È un buon allenatore, a me piace, però adesso è un po' presto. È chiaro che il turno... No, è presto parlare di posizioni finali, secondo me. Ah, beh, scusa, del suo Bologna, certo, certo. Perché se noi non svecchiamo un po' il nostro modo di pensare, poi va a finire che gli allenatori come De Zerbi in Italia non allenano, eh? Ma lui non vuole... Credo non voglia neanche allenare in Italia. No, non vuole tornare in Italia, sicuramente. Vuole tornare? No, non vuole tornare, assolutamente. Perché è più difficile allenare in Italia, Paolo, eh? No, no, beh, non è che è più difficile, però evidentemente ha capito il livello della Premier e il livello a cui può allenare. Oltretutto, secondo me, lui ha due obiettivi in testa. Siccome qualche sondaggio dal Real gli è arrivato, sicuramente non è il primo nella lista, però, per esempio, se Ancelotti dovesse lasciare il primo era Ciabialonso, che però l'Evercuse non sembra intenzionato a lasciare partire, cioè l'Evercuse che sta andando come un treno in Bundesliga. E De Zerbi può giocarsela anche in qualche big della Premier, secondo me, nella prossima stagione. No, io dico, su Tiago Motta o su questi allenatori, spero che i club abbiano coraggio di provarci, perché sennò davvero poi li perdiamo tutti gli allenatori innovativi, no? Eh, ma tu dici i club come la Juve, come il Milan, come, insomma, di quel livello. Non faccio nome dell'Inter perché in Zaghi sembra quello, insomma, più saldamente. No, beh, sicuramente. Ecco. Tutto, vabbè, secondo me è il migliore di tutti Lautaro, è stato, viene a prendersi la palla a metà campo, ha stato, non so quante volte, l'uomo a metà campo girandosi spalle alla porta e creando superiorità, ha dato a recuperare il pallone in altre quarti nel pressing, ha fatto ammonire Lico Giannis, ha dato l'assist a Arnautovic per quella mezza girata che ha tirato fuori, che ha ciccato Arnautovic. Quindi Lautaro per me è fantastico in questo primo tempo, sette. Io credo che si deve guardare solo se uno fa gol o no. Bisogna anche guardare i movimenti che fa, cosa fa per la squadra e per me ha giocato benissimo. Mi è piaciuto, mi è piaciuto Carlos Augusto sulla sinistra, è venuto giù spesso, in difesa non ha avuto nessun tipo di problema, il Bologna non ha praticamente mai impensierito Audero e non si è mai quasi mai fatto vedere, a parte con quel colpo di tacco stupendo di Fabian. e quindi sei e mezzo a Carlos Augusto e sul terzo direi Frattesi che comunque è abbastanza in forma, ha provato un paio di azioni personali, ha quel tiro in corsa con la parata di Ravaglia e quindi darei sei e mezzo anche a Frattesi. Per invece, vabbè non sono tanti quelli che scendono, non mi ha convinto Arnautovic anche oggi, non ha fatto malissimo ma non ha fatto neanche bene, quindi me lo aspetto un po' più nel vivo del gioco, magari anche in fase di finalizzazione che ogni tanto, quella palla che cicca è una palla che non deve ciccare Arnautovic, quindi 5 e mezzo. Per il resto, gli altri sono tutti sei, Aslani, Klassen, lo stesso Darmian, Bissek anche qualcosina più di sei, Acerbi qualcosina più di sei, quindi per ora direi sull'Arnautovic. Ecco, quindi quello che era la curiosità di Tiziano ad inizio partita, Tiziano ha avuto risposte, cioè questo centrocampo inedito così rimaneggiato che forse mai si era visto e che è la forza dell'Inter, sia in fase di difensiva che costruttiva. Hai visto comunque un Inter che è riuscita anche così a creare e a non subire o non è validante il test con Bologna? È una partita dove entrambe le squadre sono rimaneggiate, quindi però ho visto più Inter che Bologna, anche se Bologna ha avuto una clamorosa occasione e opportunità per sbloccare il risultato, ma comunque più Inter che Bologna, indipendentemente dalle assenze gravi che mancano sia a una che all'altra squadra, soprattutto all'Inter. Ecco, a questo proposito, nella cena di Natale, Zang ha detto, il discorso della stella ha fatto capire chiaramente che il sogno è quello di vincere lo scudetto e poi inizialmente mi pare che in quella sede Filippo, correggimi se sbaglio, ha detto no al mercato, però poi dopo è venuto fuori la notizia che Quadrado sarebbe dovuto operare e quindi di fatto è oh... Credo che lui abbia detto durante la festa che non fa mercato. L'aveva detto qualche giorno, cioè si era chiuso il mercato, il discorso del mercato dell'Inter dicendo nessun regalo sotto l'albero per Inzaghi. No, anche perché Usiglio ha fatto un'intervista in cui diceva stiamo già cercando il giocatore sulla destra, stiamo già... Ma perché dopo è venuta fuori la notizia dell'operazione di Quadrado, cioè inizialmente con Quadrado nei ranghi che aveva giocato anche uno spezzone di partita, niente mercato, l'incognita, cioè la variabile Quadrado... Sì, quello che si diceva, io non mi ricordo Zang che ha dichiarato non spendo una lira a gennaio e non compriamo giocatori, però per carità può essermi sfuggito assolutamente. Però è chiaro che l'Inter qualcosa a gennaio sul mercato farà, sicuramente come stessa missione di ausilio si va a cercare un esterno destro perché non c'è più Quadrado che ha finito la stagione e tra l'altro è un giocatore in scadenza di contratto. L'Inter gli ha fatto in contratto di un anno, forse è un'opzione per il secondo, ma comunque non credo che gli verrà dato un altro anno di contratto e quindi va già... e poi ha delle difficoltà anche per il rinnovo di Dumfries, quindi secondo me accelerare un discorso sulla fascia destra è vitale anche perché Darmian avrà bisogno di giocare nei tre dietro. Quindi l'esterno destro va preso, lo ha detto ausilio e io mi aspetto, poi non so se lo farà Marotta eccetera, ma io mi aspetto anche che l'Inter intervenga in attacco perché possiamo parlare della rosa profonda quando vuoi, quanto vuoi, ma la differenza tra i due titolari e le due riserve è enorme, è enorme. Se tu vuoi, come dicevamo prima, puntare tutto sul campionato e sulla seconda stella che è l'obiettivo irrinunciabile, tanto è vero che tu rinunci quasi a un primo posto nel girone schierando le riserve, tra virgolette, perché devi preservare la partita con la Lazio, avere più possibilità possibili, scusate il gioco di parole, di vincere con la Lazio, è chiaro che tu stai dando una priorità assoluta alla seconda stella. Per aiutare Inzaghi, secondo me, conviene andare su una terza punta, non una quinta, attenzione, non è una questione di numeri, è una questione di qualità, perché quattro punte le hai. Un valido sostituto dei due... Questa è la mia opinione, poi probabilmente non andrà. Aspetta, scusa Tiziano, arrivo perché si è giunto l'ospite che dicevamo in apertura, di cui vi parlavo, no? Ecco, non siamo da soli, perché tra poco io aprirò questa finestra, mi affaccerò e saluterò, in diretta da Torino, chi? Luciano Moggi, benvenuto! Ciao Luciano! Eccomi, buonasera, buonasera a tutti. Un grande abbraccio allora, Luciano, guarda, do la parola a Tiziano perché stava finendo un discorso sul discorso, scusa la ripetizione, mercato Inter. Poi naturalmente vengo da te per tutti i commenti, Tiziano, su questo aspetto. Ma allora, su questo aspetto, io veramente non... indipendentemente dall'assenza di un giocatore come Quadrado e compagnia Bella, cioè in questo momento l'Inter è nettamente più forte delle altre. Cioè al di là del vantaggio dei quattro punti di vantaggio sulla Juventus, che non sono tanti ci mancherebbe, ma la sottratale differenza per esempio è che l'Inter ha segnato 39 gol e la Juventus sai quanti gol ha segnato? 24, 15 meno. Tantissimi meno. L'Inter ha la difesa più forte del campionato, ha subito 7 gol, la Juventus 10 ha una fase difensiva forte. In questo momento, anche nella prospettiva immediata, non c'è sulla carta e sul campo una rivale. Ma quindi stai dicendo a Filippo, non esagerare, non chiedere troppo, anche la terza punta. Mi sembra che ci mancherebbe, bisogna rinforzare l'attacco perché già ne ha solamente... Ma vanno a rete anche i centrocampisti, con le addosso, anche i centrocampisti. L'Inter ha avuto fuori Rantovic due mesi, adesso ha fuori Sanchez, ha fuori Dunfriss, ha fuori De Vrij, ha avuto fuori due mesi Pavard, ha avuto fuori un mese Pastori. C'è nonostante? C'è nonostante, ho capito, ma se c'è la possibilità di andare sul mercato e considerando che Quadrado ha finito la stagione, perché l'Inter sulla destra ha due giocatori, Dunfriss e Quadrado, quelli due, poi Darmian stava dietro. Adesso Darmian deve giocare a 34 anni tutte le partite. E' l'esperimento di Frattesi esterno? No, no, ma va, ma no, no. No, ma io ho una domanda, l'ho scritto, non ho mica detto io. No, no, ma non è assolutamente l'esterno, Frattesi è stato preso per fare mediano, poi comunque se lo metti esterno perdi uno in mediana, quindi cambia poco. No, ma la mediana ce l'hai. No, chi hai? Non hai la mediana. Frattesi è il vice titolare di Barello di Michitari. Ah, il vice titolare? Eh, ma se lo sposti a destra... Ma se lo metti sulla destra, sulla fascia destra, può fare... Sì, ho capito tizzi, però l'Inter oggi non so cosa fa, metti che oggi passa, ok, e c'ha la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana a gennaio dura dal 18 al 22, sperando che l'Inter vinca la semifinale, hai due partite, poi ricomincia la Champions, c'è il campionato che è la tua priorità, hai bisogno di gente, non puoi chiedere ad Armian che ha 34 anni di giocare sempre, o a Cervi di non rifiattare mai che ha 35 anni, o a Arnauto, vice Sanchez che anche loro sono vecchietti di, se si fa male tu rammo, e riviene un raffreddore a Lautaro, di giocare di più, no. Cioè, se tu hai quella priorità e hai la possibilità, intervieni. Possono essere considerati dei sottiduti all'altezza della situazione. Però, scusate, quelli di oggi col Bologno, eh, Giovanna. Non sono all'altezza della situazione, dice Cenziano. Quali quelli di oggi? Quelli a centrocampo, però, dice, la soluzione che ha avuto a centrocampo. Contro il Bologno oggi, sì, se devi giocare le semifinali di Supercoppa o la Champions League o le partite decise del campionato, non lo so. Allora, Bergigio, poi vado da moggi e poi vengo da te fermi. Ma al di là delle idee personali, se Ausilio dice, andiamo sul mercato perché cerchiamo un esterno, se vado male il quadrato, l'Inter va sul mercato e prenderà un esterno. Poi, non è solo un discorso di quanto è forte la squadra che è in casa, perché, per esempio, Tiago e Dialo, se non si fosse fatto male, l'avrebbero già preso. E loro, adesso, lui va a scadenza in estate. Loro stanno cercando di anticiparne l'arrivo per evitare poi una concorrenza, un'asta in estate quando è scadenza. E si sta valutando l'eventuale indennizzo da dare a Lille. Quindi, un'operazione sicura. Una ci stanno provando. Forse, ecco, io ho meno segnali rispetto a Filippo sulla punta, perché, secondo me, anche il nome che circolava di Taremi, per tante ragioni, il Porto in Champions non lo lascia anche se è scadenza. Forse lui ha delle proposte importanti in giro e vuole giocare. Ecco, io ho quello. Due su tre, però, secondo me... No, 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 dico... Indicazioni sulla punta. La mia opinione, dico, secondo me... Di cosa mangierebbe? Secondo me bisognerebbe andare, poi non lo so se... No, dicevo, le prime due cose sono state una detta e l'altra si capisce. Sulla punta, al di là di quello che ognuno è, non sembra che stiano lavorando particolarmente per gennaio. Ecco, non è la priorità, però, le altre due operazioni di mercato sì. Luciano Moggi, cosa pensi? Cosa dici? Eccomi, eccomi. Quest'Inter ha ragione Crudeli, che è già bella e perfetta così. nulla ha da aggiungere, nulla ha da... No, no, non ho detto... Non mi metti in bocca delle cose che non ho detto. Ho detto che lo Stato attuale è nettamente la più forte. E non serve... Non ho detto che non ha nulla da aggiungere. Perché ha ragione Tramontana quando dice se, Tizio, Caio, Semprogno, ci sono dei problemi. Ci vogliono nella terra sempre, la borsa e il cielo. Certo, si può migliorare sempre, però diciamo che se anche dovesse rimanere così, è la più forte. Ha ragione Tiziano. Ha ragione Tiziano questa volta anche perché è vero che l'Inter in questo momento è la più forte di tutti. Ha trascurato magari il fatto che c'è anche il capocannoniere, ha 14 gol, che è il Laudaro. Quindi voglio dire, è sicuramente la più forte, però strada facendo e vincendo praticamente in tutto quello che vorrebbe vincere e sicuramente anche non vincendolo ha bisogno di qualche rinforzo. Questo non c'è dubbio perché troppi sono stati infortunati e poi è una squadra che è anche in una certa maniera un po' vecchietta nei titolari e in quelli che praticamente adesso sono a forza della squadra. Quindi io voglio dire che secondo me, a me non piace fare nomi perché fanno colore e basta, però che abbia bisogno di qualcosa per fare tutto quello che vuol fare, Coppa dei Campioni, Coppa Italia, Supercoppa, eccetera, occorre qualche giocatore in più. Ecco, ma anche là davanti perché insomma uno dice numericamente sei a posto, però Filippo dice c'è un gap troppo marcato tra i due titolari, fa entrare Arnauto Vice Sanchez, ci sono vissi. E qui ha ragione Filippo perché tra l'Austria con praticamente due che giocano titolari c'è una netta differenza e si vede sostanzialmente quando vanno in campo, per cui che ci sarebbe bisogno di uno di più di qualità a supporto dei due che giocano sempre i titolari, è sicuramente una cosa da fare, sarebbe da fare. Sarebbe da fare. Poi bisogna vedere economicamente la società se può sostenere le spese. Questo è il punto, Luciana, perché io credo che Marotta e Ausilio facciano salti mortali, voi vedete praticamente tutto quello che sta succedendo alle spalle dell'Inter, ancora non c'è niente di deciso sulla proprietà eccetera, quindi voglio dire che sono tutte cose che mettono in difficoltà gli operatori e soprattutto in questo caso qui pregano un danno, più problemi a Marotta e ad Ausilio, che sono costretti e saranno costretti a prendere qualcosa e qualcosa a gennaio non è facile. Eh, non è facile, è qualcosa anche di low cost ma buono, ma funzionale al progetto. Piuttosto vedi Giovanna, c'è una cosa a dire che a me piace sempre rimarcare. Noi siamo stati limitente che all'inizio del campionato, quando tutti dicevano adesso rivedremo il Napoli campione d'Italia nelle vesti di dominatore ancora, vedremo praticamente la Lazio che è arrivata seconda eccetera, vedremo il Mila, guarda caso, noi abbiamo detto attenzione, secondo noi praticamente sia Napoli che Lazio non ripeteranno il campionato che hanno fatto l'anno scorso e il Mila, abbiamo detto, saranno costretti poi alla fine a richiamare Maldini. Non hanno richiamato Maldini, hanno richiamato Ibrahimovic, il che vuol significare che abbiamo detto delle cose che sostanzialmente poi si sono verificate. Evidentemente dalle parti nostre c'è anche il modo di capire praticamente le cose prima di altri. Questo mi fa piacere per voi. Confermo, confermo Luciano perché in tante di queste occasioni quando le voci erano ancora ferme c'ero io. Per ritornare all'argomento e chiudo poi. Attenzione, adesso per esempio la Salernitana ha preso ancora praticamente il direttore sportivo che aveva, Sabatini. Ecco, questi sono i classici errori che possono fare i dirigenti delle squadre di calcio quando non sanno più a che santo appigliarsi, perché secondo me in questo caso qua, non è il caso del Napoli, non è il caso della Lazio, eccetera. È il caso praticamente di una squadra che deve comprare i giocatori e rinforzarsi. Voi avete visto l'Atalanta, vabbè che l'Atalanta è di un'altra fattispecie come squadra, però voi avete visto che hanno preso quattro gol e addirittura quando avevano la palla li bruciavano tra piedi. Certo, ha bisogno di ben altro la Salernitana e il povero Inzaghi. Certo, certo, non di un dirigente. Allora, anche se blasonato, caro Ferri, cosa ne pensi? Anche del problema poi di trovargli questi soldi da spendere, no? Da parte dell'Inter. Ausilio e Marotta hanno sempre fatto i salti mortali fino adesso. Io credo che Ausilio e Marotta e tutta la società hanno lavorato molto bene in questi anni, secondo me, all'Inter, nonostante le problematiche che abbiamo citato tutti sul discorso economico, perciò abbiamo delle problematiche, però sono arrivati dei giocatori importanti. Stando ad oggi, il problema è che Quadrado stava rientrando, c'è stata questa tegola che è una cosa non da poco. L'Inter deve sicuramente trovare una soluzione in quel ruolo, perché ha troppe partite. A tanti giocatori le faccio due. A Cerbi e Darmian hanno iniziato a giocare alle amichevoli in ritiro, stanno giocando ancora stasera, titolari. Perciò fai fatica a arrivare in fondo, a prescindere se vuoi competere per la Champions o il campionato. Comunque le partite sono tanti. Sul discorso di chi prendere, io non mi ricordo, il mercato a gennaio, degli interventi con delle squadre che hanno preso dei giocatori importanti. Forse li puoi contare sulle punte delle dita. Sì, è difficile che tu dici fare il crack. No, è difficile perché ci sono. O hai a disposizione un portafoglio che puoi andare a bussare dove vuoi, o altrimenti devi trovare la soluzione che è un giocatore che è libero. Funzionale, ma... Anche perché a questo punto del campionato e delle coppe sono delle squadre che lottano per non retrocedere, delle squadre che lottano per puntare a degli obiettivi importanti. Sì, ognuno ha un obiettivo, quindi è difficile togliere i giocatori. Ma no, qua abbiamo Luciano che ha fatto questo per anni, perciò ti dico, a gennaio è successo che sono arrivati in certi anni dei giocatori importanti, ma pochi, pochi, fai fatica. Guarda, vado da Filippo, dimmi. Filippo, domanda a Filippo. Vai, vai, certo, devo andare da Filippo. Secondo il tuo punto di vista, che margini di miglioramento ha un giocatore che sta dimostrando di essere già adesso in condizioni di poter dare un contributo non indifferente alla fase offensiva dell'Inter? Mi riferisco a Turam. Sette gol, sette gol in campionato e uno in in campionato. A margini di miglioramento credo tantissimi, però ha avuto un impatto sulla squadra, non solo sui gol e gli assist, ma proprio sul gioco della squadra che è stato impressionante. Io pensavo fosse un ottimo giocatore, ma non credevo che sarebbe arrivato a questi livelli in così poco tempo, perché poi lui già dalla seconda giornata ha cominciato a segnare, a dare assist, ma poi con Lautaro si trova benissimo, fa giocare la squadra, fa alzare la squadra, crea superiorità numerica. L'altro giorno, nello 0-0 con la Real Sociedad, è stato l'unico che ha acceso un po' la luce e poi lo ha tolto Inzaghi dopo un'ora e questo ti fa capire che Inzaghi pensava molto a Lazio-Inter, perché era l'unico che poteva sbloccare la partita in quel momento. Turam e dopo un'ora l'ha tolto. È vero, è vero, l'abbiamo criticato. Mi ricordo che tu era l'unica cosa che non avevi capito. No, non l'ho criticato. No, però non hai capito quel cambio. Sì, l'ho capito dopo, nel senso che la priorità era talmente Lazio-Inter che si sacrifica magari la possibilità di vincere con la Real Sociedad, poi magari vincevi lo stesso, perché comunque dovevi preservare Turam per la partita con la Lazio. Questo ti fa capire che in attacco, oltre ai primi due, c'è qualche problema. C'è un abisso. Allora, noi andiamo in pubblicità, anche su Turam l'avevamo detto, io ricordo insomma, Mogi stesso in primis quanto fosse forte questo giocatore e lui ha detto che Ausilio lo ha capito, anche lo vedeva come seconda punta e questo gli ha fatto scegliere senza ombra di dubbio l'Inter. Questa fiducia che ha sentito da parte dei dirigenti che hanno creduto subito a lui. Aspettiamo ancora qualche secondo. Tutto pronto? Fischia l'arbitro? Parte Lauti col destro! Parata! Uff, mamma mia! Parata di Navaglia! Incredibile! Parata o rigore mix? L'Auti non è uno specialista. Ha tirato male secondo me. Non è stato bello come rigore. Diciamo che su quattro rigori uno lo sbaglia. Ecco, diciamo questo, rivediamo l'esecuzione. Ha tirato a mezza altezza. Parabile dai. Portiere gli ha letto la traiettoria. Parabile. Anche lento. Parabile. Lento a mezza altezza. Allora, noi andiamo in pubblicità. Ritorno, eh? Ritorno da quello che diceva, su quello che dicevamo oggi sul discorso Rocchi. Poi vi faccio ascoltare anche le dichiarazioni di Allegri che si è imbestialito letteralmente nel tunnel, nello spogliatoio. Ha detto di tutto e di più. Ripercorreremo i momenti salienti del posto. Vicino al gol ancora l'Inter. L'interlana di rigore Arnautovic libera per il destro a giro. Fa partire il tiro. C'è una deviazione da parte di un giocatore del Bologna e quindi è corner. La palla sfila a mezzo metro alla sinistra di Ravaglia che non ci poteva comunque arrivare. Buono il sinistra Arnautovic che però sarebbe stato abbastanza centrale senza la deviazione. Palla che esce veramente di pochissimo. Calcio d'angolo tutto pronto per il corner di Aslani dalla destra. Arriva il cross sul primo palo. Mette fuori Corazza ancora però. Darmian si libera per il sinistro. Palla che si impegna l'area di rigore. Poi la spazza ancora il Bologna. La recupera Aslani. Posizione di cross dalla destra. Cross in mezzo. Mette fuori Lico Giannis. Va a recuperare ancora Classen. Tre quarti di sinistra. Palla sul destra. Orizzontale. Tre quarti centrale. Per Bastoni che alza la testa. Guarda i giocatori in area di rigore. Arriva lo spiovente sulla fascia di sinistra in area di rigore. C'è il colpo di testa di Frattesi che arriva facile tra le braccia di Ravaglia. L'arbitro ha appena segnato cinque minuti di recupero. Nel Bologna sono entrati anche i titolari che sono Zirche e Ndoie in attacco. Anche Tiago Motta prova a vincerla. Ora c'è questo lancio di Sensi a cercare di Marco sulla sinistra. C'è un fallo abbastanza evidente. Però si va avanti per il vantaggio. Turam perde palla al limite della rigore. Può ripartire il Bologna. Ma c'è a terra un giocatore dell'Inter che ha preso un colpo in faccia. Va a recuperare Bissek. Ferma il gioco la penna e fa bene perché ha preso un colpo in faccia. Mi pare Carlos Augusto. Mi sembra lui. Probabilmente in un intervento con la palla alta ha preso un... Vediamo eh. Qui c'è il fallo in teoria su Turam. Sì. Vabbè. Però è in precedenza. Vediamo. Ah la testata. Sì. Ok. Ha preso una nucata. Diciamo così. Il giocatore del Bologna ha provato a prendere la palla in un contrasto con la nuca e al posto che prendere la palla ha preso il naso di di Carlos Augusto. Ah sì. Lo zigomo. Lo zigomo. Sì. Inter a me è piaciuta l'Inter. Ha sprecato tante occasioni da gol. Eh il Bologna è una squadra secondo me attualmente in grande forma che è riuscita a limitarla però potevamo fare sicuramente di più sottoporta. Ecco eh cerchiamoci supplementare vediamo come va. Tra l'altro sono entrati. Vedete vedete Giovanna vedete eh quando una squadra è in forma sono in forma anche il seconde linea attenzione e il Bologna in questo momento è una squadra che ha un gruppo in forma un gruppo in forma ed è difficile contrastare il Bologna perché corre di più contrasta di più fa tutto di più. Oggi ha trovato una squadra forte come l'Inter e se la sono battuta. Eh la partita è finita 0 a 0 magari poteva vincere doveva vincere l'Inter. Se per esempio ci fosse stato Scanalogro a tirare il rigore probabilmente era finita 1 a 0 la partita. Perché c'è quell'errore dal dischetto ma possiamo dire un po' non so dico io eh troppo provocatoria come affermazione che le seconde linee dell'Inter insomma tradiscono un po' le aspettative. Sì giocano bene buona partita ma se è 0 a 0 con le seconde linee del Bologna. Non so se Filippo è d'accordo. Cioè i frattesi Aslani. Ma secondo me no secondo me no l'unico che puoi dire che è un po' tradito è stato Arnautovic sotto porta perché gli altri secondo me. Frattesi ha fatto il suo? No sì secondo me hanno contribuito cioè comunque l'Inter ha fatto una partita in crescendo e nel secondo tempo comunque ha messo là il Bologna. Cioè alla fine no secondo me Arnautovic che non è tanto cioè è stato molto impreciso. È un po' un corpo estraneo secondo me in questa squadra Arnautovic attualmente e poi non so in futuro ma quello che per quello che ho visto fino adesso al di là dei due mesi in cui non ha giocato eh lo vedo un po' come un corpo estraneo. Gli altri sono giocatori che si muovono tutti anche lo stesso Sanchez e sono hanno i movimenti di Inzaghi perché si cambiano le posizioni ogni momento tutti i giocatori. Arnautovic è un giocatore diverso è lì pesante sta davanti tecnicamente bravo fa delle cose belle però un po' statico. Tieni presente che l'anno scorso Tiago Motta non lo vedeva eh non lo faceva praticamente giocare. Beh lui è sempre stato un giocatore discontinuo non è mai stato un giocatore continuo perché io lo vedo da fuori ha degli atteggiamenti ogni tanto che sembra che sia strane dalla partita. Detto questo io non so se Filippo ha visto Lautaro Martinez aveva un problema. Assaggiavano la coscia. Però io no affaticamento sarà sicuro. Ah gioca poi entra Pavar. Entra Pavar. Ritorna Pavar in campo. Ah dopo l'infortunio alla no la spalla. No al ginocchio. Al ginocchio scusa. Ha avuto la fuoriuscita. Distorsione pesante. È vero è vero che gli avevano risistemato. Credo che sia ormai due però sul discorso delle seconde linee anch'io sono d'accordo con Filippo. Non hanno tradito secondo me. Non hanno tradito. No ha fatto una buona gara. Ragazzi ho capito. Ha fatto una buona gara. torto Arnato. Però se tu devi vincere una partita c'è la no glumitaria. No scusate. Qualche merito anche l'ha detto in quelle del Napoli ieri. Qualche merito dobbiamo darlo anche al Bologna. Assolutamente. Cioè solo parliamo solo inter inter ma c'è anche Bologna. Certo. Certo. Una partita è chiaro che merita più ha avuto più occasione. Sì. Ha premuto più l'inter di di quanto se Bologna ha fatto il Bologna. Bologna ha ispirato una buona parola. Bologna gioca bene a caccia. Sì Bologna gioca bene a caccia però ha mai tirato in porsa. Solo quello di Fabian. Quello di Fabian è andato fuori di poco. No ma dico in 90 minuti c'è il colpo di tacco di Fabian. Ma a livello di profondità della rosa è ovvio che se lui non fa giocare i titolari Tiago Motta perde molto. Cioè l'Inter dovrebbe perdere l'Inter. Però posso dirti anche che noi parliamo delle seconde linee dell'Inter ma con tutto rispetto al Bologna seconde linee dell'Inter con i titolari del Bologna c'è ancora differenza secondo me. Eh ma allora questo però stai dicendo quello che dico io. Certo. No Bologna è forte nel gruppo. Eh no capito. Ma tu anche con le seconde linee contro le seconde linee a maggior ragione del Bologna. No ma questo è mio pensiero. Forse un gol può dire. Secondo me è frattesi. Frattesi Bologna non ce l'ha. Ripeto con tutto rispetto del Bologna. Aslani è un giocatore che a me piace tantissimo e ha delle immagini di miglioramento incredibile. Carlo Augusto è un giocatore che dal mio punto di vista il Bologna non ce l'ha. Però Bologna è forte nel gruppo. Sì no dico però se tu è vero ma se tu cioè i titolari del Bologna cioè le squadre come l'Inter in teoria possono avere rose più profonde di qualità. Il Bologna è una sorpresa non può avere una rosa così lunga. No però per esempio Paolo stasera ha fatto la differenza al portiere del Bologna che è il secondo. Parando rigore. Eh no ma ha fatto anche ha fatto bene ha fatto due parate. Una l'ultima l'ha fatto su Di Marco se non sbaglio. Ah è chiaro. Cioè quando si dice ha fatto bene il portiere. No nel senso. No ma per dirti il portiere è che è il portiere di riserva. Ha fatto molto bene. Eh l'ha scelto l'ha scelto quindi l'onore al merito. Certo. Certo. Al merito di chi l'ha scelto. Vediamo il corner. Vediamo se sul corner mi regala la gioia Pavar che è appena rientrato. Corner dalla sinistra ci va Di Marco. Arriva al cross in mezzo. Carlo Saugusto. 1 a 0 per l'Inter. Cross di Dima. Testa di Carlo Saugusto. Ravaglia battuto. 1 a 0 per l'Inter. Carlo Saugusto. Dai ragazzi. Finalmente segniamo il gol dell'1 a 0. Abbiamo aspettato i supplementari ma l'abbiamo fatto. Dai ragazzi dai 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 dai. Su su. Carlo Saugusto il suo primo gol. È anche bello. Molto bello. Azzurra è un bel gol. Libero. Ha lasciato solissimo eh. Ha perso la marcatura. Sì. Tra De Silvestri. Ma non vedi che vanno tutti alla ricerca della palla. Marcano la zona e vanno alla ricerca della palla e non vedono dov'è l'avversario. Tra De Silvestri e Lucumi praticamente. Guarda mentre arriva la palla al rallentatore. Guardano la palla e non guardano l'uomo. Non lo sentono nemmeno. Eh ma il gol non te lo fa la palla. Te lo fa l'uomo. È vero. È vero. È vero. Ah quello è una grande verità. No sai perché ho detto questo? Un grande allenatore che era Gigi Radice diceva sempre quello. Eh beh. Ha detto la palla non fa gola. È l'avversario che ti fa gola. Devi guardare l'avversario. Sì. Se tu guardi la palla non guardi l'avversario. È una grande verità basica. Ma una volta non si difendeva la zona sul livello palinato. No qualcuno si è. Già allora. Allora ti posso garantire che io parlo di Radice. Allora metteva i due ai vertici dell'area piccola a zona. Poi dopo faceva due barra. Dipende chi c'era dall'altra parte. Perché se c'era gente tipo che ne so Rummenighe, Pruzzo, gente che di testa era molto brava. Marcava. Quelli li marcava uomo. Però due li metteva già a zona. Zona mista. Zona mista. C'era un programma che facevamo proprio qui. No lui ti diceva i due che erano al vertice dell'area piccola non devi far passare la palla ad altezza d'uomo. Giustamente. Guardavi la palla. Sono curiosa. È vero che siamo ai tempi supplementari quindi la partita non è finita. Però quelli regolamentari sì. Di sapere. Filippo se mi bocci qualcuno. Ecco. Se c'è qualcuno che ti ha in questi 90 e 3 minuti. No io ti dico, ti ripeto, anche sullo 0-0. Io ero soddisfatto della prestazione. A me è piaciuta l'Inter oggi. Anche Frattesi, Eslani, anche le seconde linee. A parte Arnautovic. Quindi Tolto Arnautovic, pesce ford'acqua anche per te. Gli altri li provo. A me sono piaciuti tutti. Bissek bene. Adesso è uscito per far entrare Pavard. C'è ragazzo bene veramente. Mi è piaciuto molto. Frattesi, secondo me, non è che ha giocato una partita eccellente. Però ha giocato una buona partita. Ha avuto anche l'occasione dell'1-0. Ne ha sbagliata un'altra. Quindi si è fatto sempre trovare pronto. A me è piaciuta l'Inter. Anche se è stata sullo 0-0 fino a un minuto fa. Ma è una coincidenza che il gol sia arrivato da quando sono entrati poi tra i dei titolari. Sì, è arrivato su calcio d'angolo. È vero, è vero. No, no, no. Non l'episodio del gol. In generale. Cioè si è vista un'interdirezione. Ma l'Inter ha avuto tantissime occasioni anche prima che entrasse dei titolari. Poi ha segnato su un calcio d'angolo. Anche quando ha calciato Carlo Augusto che l'ha deviata e è uscita di mezzo centimetro. Magari danno più sicurezza, più palloni. Beh, ma è ovvio che se gioca il titolo... No, ho capito. Però, scusami. Dobbiamo giocare ogni tre giorni. Stiamo giocando da tre mesi ogni tre giorni. Doveremo giocare ancora ogni tre giorni quando ritorniamo perché c'è anche la Supercoppa. Si va in Arabia. È chiaro che devi far giocare anche gli altri. Non è che ci sono sempre 11 e non ce la fanno. Anzi, per me è un miracolo che Darmiane e Acerbi continuino a giocare e continuino a giocare bene perché le giocano tutte. Tutte e c'erano 34 e 35 anni. Poi, io credo, Filippo, non so se sei d'accordo. Su ogni squadra, non solo l'Inter. Per esempio, nel primo tempo che non c'era Di Marco e non c'era Cialanogru, palle inattive, non a caso è venuto il gol su palle inattiva. Cioè, Di Marco e Cialanogru calciano molto bene. Perciò anche chi va alla ricerca della palla per cercare di far gol è avvantaggiato se il compagno calcia bene, calcia d'angolo, a punizioni. Non a caso è venuto un gol su un calcio d'angolo di Di Marco. Eh, ma infatti era quello... Ho capito cosa volete, sì. Cioè, piedi di Di Marco. Sono d'accordo. A me, ma certo, ma Di Marco non calcia come Asmani, ragazzi. Però se andiamo alla ricerca dell'ovvio, allora va bene. Dico che per vincere devi avere i soliti dentro. Però il gol ha fatto un... No, no, che scuro che c'è. Ha aiutato, coadiuvato da un gioco che comunque è diventato più di qualità. L'Inter ha 11 titolari e poi ne ha 3. Infatti è quello che dicevo prima quando voi dite che la rosa è completissima, strafenomenale, domina. Ha 11 titolari e 3-4 vice che sono vicini ai titolari. Gli altri vice non sono vicini ai titolari. Quindi su questo... Ah, no, io infatti. Forse è quello che diceva prima Filippo, non so se era questo che dicevi. Cioè, in mezzo al campo, essi a Barella, entra Frattesi, non è che sono uguali. Però Frattesi è un giocatore che ha richiesto... Carlos Augusto Di Marco. Esatto. No, ma anche dietro, per esempio, hai dei cambi che super giù. Davanti c'è una differenza. Cioè, diciamo che poi... Comunque se sta bene tutte e due, l'allenatore... Sì, ma anche la differenza può far riposare... Traslani e Cialanoglu è Belagrande, eh? Sì, è Belagrande. Allora, diciamo... Comunque Cialanoglu credo che in questo momento... Io non parlo solo dell'Italia, ma anche in Europa. No, no, a livello mondiale, sono d'accordo. Io parlo dell'Europa e non voglio andare oltre. Ce ne siano pochi di quelli venuti. No, come lui ce ne sono pochi. Allora, ma oggi cosa ne pensi di quest'Inter, forse sopravvalutata nel valore delle seconde linee? Non lo so se tu la pensi... Tiziano impazzisce quando io ho tratto questo... Ho già detto prima che l'Inter è una buona squadra, è un'ottima squadra. Un'ottima squadra che praticamente può fare, giocando tutti i titolari, è chiaro che è superiore a tutti in questo momento. Su questo non c'è dubbio. E dopo l'Inter viene Bologna, perché Bologna praticamente ha dei giovani interessanti, tutti piedi buoni, agonisticamente validi. Quindi è un allenatore, direi, molto non molto importante. Perché non ha fatto solo bene con Bologna, ma ha fatto bene comunque sia andato e comunque sia andato. Per cui il problema di fuori... L'Inter ha giocato bene stasera, non ha concretizzato. Il gol è venuto sul palla inattiva, su questo non c'è dubbio. Direi che sono stati dei polli i difendori del Bologna a non marcarlo, perché ha detto bene già, si guarda praticamente l'uomo, è importante. Poi lui ha ricordato Radice, siccome io l'ho avuto come allenatore al Torino, esattamente quello che faceva Radice. Era con due a zona, però poi dopo prendeva quelli più pericolosi e rimarcava uomo. Questo è quello che si deve fare. In quell'occasione lì in Bologna è stato un po' disattento, su questo non c'è dubbio. Però devo dire che è stata una bella partita. Una partita giocata con delle riserve che hanno dimostrato in certi momenti di essere buone riserve. L'unica cosa che mi viene da dire quando si parla di Varela e quando si parla del giocatore che l'ha sostituito, io credo che Frattesi sia più Mkhitaryan che non Varela. Per cui è uno che marca meno, ma si inserisce meglio in area di rigore. Però è un giocatore importante per l'Inter. Io facevo così, mentre sono stata inquadrata, Moggi e tutti voi, perché, poi spero per Filippo di non dover cambiare il titolo, ma c'è un Lautaro Martinez che è uscito toccandosi l'aduttore. Adesso è entrato Mkhitaryan che andrà a fare la seconda punta dietro Turam, oppure comunque l'uomo dietro Turam. Lautaro è uscito, ha giocato veramente tantissimo, era un rischio tenerlo sempre così tanto. Comunque è uscito corricchiando, quindi non credo che sia un dolore così grosso, così importante, però toccandosi comunque l'adduttore. Quindi adesso è lì che si fa massaggiare, si è inquadrato in questo momento in panchina con il massaggiatore della casa e vediamo un po', speriamo non sia niente di che, perché ci manca solo che si fa male anche l'autaro. Ragazzi, questo possiamo, insomma, entra in ansia perché è uscito toccandosi l'adduttore Lautaro Martinez, già lo avevate visto che aveva quel problema lì, ma proprio adesso insostenibile, insomma non può stare in campo, ovviamente. Ma ci manca perché tu dici, chi altri hai di infortunato? Sanchez è infortunato, d'attacco in questo momento, se non torna Sanchez con Lecce hai solo Turam e... Allora, Tiziano, perché impazzisci quando parlo di queste seconde linee? Per vincere le partite devi mettere dentro le prime. Le seconde linee sono delle seconde linee e devono essere in grado di sostituire quando c'è l'opportunità in maniera buona, in maniera... Non puoi pretendere, pronte e via, metti una seconda linea e ti fa la differenza, perché altrimenti sarebbe una prima linea. Ma posso pretendere che una seconda linea e mi sblocchi la partita senza far entrare Turam o avendo Sanchez a disposizione... E allora posso? Tu puoi fare quello che vuoi. Però non succede. Puoi fare quello che vuoi. No, no, no. Però non puoi pretendere che le seconde linee siano pari alle prime linee. No, no. Sono delle alternative. E poi ci sono giocatori, anche titolari, che sono venuti fuori giocando con continuità. Se giochi saltuariamente non puoi esprimerti compiutamente. Vedi alla voce Frattesi, sicuramente... No, ma poi ci sono le categorie, Giovanna, perché è ovvio che se uno fa il titolare in una grande squadra è più forte di chi non è titolare. Cioè il gol che ha fatto Lautaro con la Lazio, domenica, secondo te lo fanno in tanti? No. E quindi è normale anche... No, però visto battere di calcio d'angolo a Frattesi imbarazzanti, Di Marco non ne sbaglia uno. Cioè c'è una differenza tra chi è in campo... Ma non è... E Frattesi stiamo parlando di una prima scelta quasi, in seconda linea di lusso. Ma guarda che un buon giocatore può non essere bravo nel calciare le palli inattive. L'esempio abbiamo avuto di Lautaro sul dischetto del rigore. Cioè adesso ha appena detto che ha fatto un gol incredibile, però sul dischetto del rigore può essere bravissimo tecnicamente. Un bravo giocatore può anche non battere le palli inattive, non calciare le palli inattive. Poi lo paragone di Marco, che è uno che fa gol da Rosso a metà campo. No, 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 no. Giovanna, se ti posso dire la verità, se noi andiamo a valutare le squadre, cioè la Juventus ad esempio, sulle palle inattive, va a battere le chiesa. Cioè chiesa è quello che ha il piede migliore, perché batte lui le punizioni. Vai al Milan, c'è Teo Hernandez che comunque ha un buon sinistro. No, ognuno ha le sue peculiarità. Non ce ne sono tanti. No, no, certo. Nell'Inter la fortuna è averne due. No, è perché... Perché due sono tanti. Al di là dei corner lì che sono stati battuti male. Però Fratesi, quelle volte che è entrato, non ricordo. Poi magari, oh, ditemi Gio, ha fatto quella partita in cui è stato... No, ma perché ce l'hai con Fratesi? No, perché non ha un rendimento. Ma non sta giocando con la utilità, ragazzi. È arrivato come un giocatore che avrebbe dovuto soffiare il posto. Ma è arrivato da giocatore del Sassuolo, che non aveva neanche una partita a livello internazionale. È arrivato come seconda linea di uno dei due centrocampisti mediani, Mkhitaryan e Barella. Ha tempo, deve avere tempo per ingranare. Ha fatto un gol nel derby, ha fatto un gol in Champions League, ha fatto un gol con il Benfica che ha fatto il tre pari. Non capisco cosa pretendi da Fratesi, sinceramente. Ma poi soprattutto, se... Che mettesse più in difficoltà... Ma mica hai comprato un giocatore del Real Madrid, Barella è un campione d'Europa, è un campione d'Italia. Ma tu, però il titolare Mkhitaryan è anche uno scarto della Roma, eh? No, 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 stai scherzando. No, 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 io non sto dicendo che gioca... Lo scarto della Roma tre anni fa, ma Mkhitaryan è un titolare fisso. Lo so, però parte come scarto della Roma, parte come scarto della Roma. Ma se uno dei tre centrocampisti... Non è che Fratesi ha messo in difficoltà in Italia... Mkhitaryan è un giocatore che ha fatto la Premier League con l'Ars, la Commedia 6 United, dai tre anni che ha ad altissimi livelli, mi dici che Fratesi deve prendere il posto in Mkhitaryan. No, 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 voglio dire, ma se i tre centrocampisti vitorari avessero avuto un calo di rendimento... È ovvio che il primo a dar più spazio a Fratesi sarebbe stato l'allenatore, ma questi non hanno mai un calo. Fin qui non l'ha mai avuto. E non è che Fratesi gioca poco perché è scarso. No, no, ma non vorrei che facessimo la fine di... Cioè, poi ci sono quei giocatori tipo Locatelli che tu attendi tutta la vita... No, ma siamo a dicembre! No, ma... No, ma... No, capito, vi butto uno spunto! Ma Locatelli, ho visto uno spunto, ma è uno spunto un po' forzato, cioè, perdonami, è uno spunto molto tirato per i capelli. Se adesso Fratesi deve rubare il posto a Mkhitaryan, che è uno scarto della Roma, ma non si può sentire, scusami. No, ho detto questo, ma colpevolmente! Ma dire che Mkhitaryan è uno che lì per caso è uno scarto della Roma... Ma anche dire che... Allora Cialanoglu è uno scarto del Milan, allora Cialanoglu è uno scarto del Milan, e va bene, allora tutti i parametri zero sono... A Cervi è uno scarto della Lazio, noi abbiamo una squadra con gli scarti, però sono scarsi perché sono scarti. Ma non ho detto che è una cosa negativa, sono le valutazioni delle squadre che li hanno fatti andare, che li hanno considerati così, non ho detto che sulle qualità sono scarti. Anzi, è stato un grande affare da parte dell'Ite. Ma è malposta la cosa, perché se uno va in scadenza di contratto e un club ha un'altra filosofia di lavoro e non lo rinnova, non è che per forza lo considera uno scarto. E' perché magari non vuole dare un giocatore di 30 anni nel rinnovo uno stipendio alto, vuole abbassare l'età media, no? Un po' come ha fatto la Juve con Quadrado, con Di Maria, eccetera, eccetera. Ma non è che perché uno non rinnova con la Roma è uno scarto... Beh, però la Roma se l'è fatto... cioè non l'ha rinnovato, ha sbagliato col seno di Poi. No, Zilinski non rinnova è uno scarto del Napoli. Ma ascoltate, ma voi state partendo dal presupposto che io stia criticando Mkhitaryan in quanto lo considero scarto. Io sto dicendo che la Roma ha fatto un grande errore, credo... Ma tu hai detto che frattesi deve prendere posto di Mkhitaryan perché Mkhitaryan è uno scarto della Roma. No, io sto dicendo... Poi Giovanna ha detto che un giocatore è uno che... Che non faccio come Locatelli che l'hanno aspettato. Locatelli è il regista della Juve ed è il regista della Puglia. Ogni volta non convince, ho capito, ma Locatelli ogni volta... No, noi stiamo facendo dei paragoli che secondo me non esiste. Allora, Locatelli... No, lei sta facendo. No, 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 non lei. Io non li ho fatti. No, ti faccio un esempio. Anch'io. Parlare di Locatelli non ha senso perché è arrivata la Juve dopo tanto tempo, è arrivata la Juve e è partito titolare. Allora, Frattesi è arrivato all'Inter, è arrivato all'Inter dove lo voleva tre, quattro squadre più importanti italiane. Beh, l'aveva cercato la Juve, l'aveva cercato il Milan, la Roma, anche in Inghilterra. Ma sì, ma certo. Allora, è arrivato come giocatore, come ha detto Filippo del Sassuolo, giocatore in prospettiva di nazionale comunque, è arrivato in una squadra dove il meccanismo funziona a 360 gradi. Cosa succede? Io prima di giudicare le prestazioni a fine anno, aspetto, vedo quante partite avrà fatto, perché per giocare e dare una valutazione devi giocare a meno due o tre partite di seguito, perché se giochi ogni tanto, mezz'ora, non fai la copita, non è che quando ha giocato ha fatto male, cioè sembra che quando è entrato ha fatto schifo. Ma poi, però la valutazione... No, io credevo. No, sì, però stiamo parlando di certesi come uno che quando entra fa schifo. Assolutamente, assolutamente. Scusa, quando ha giocato in nazionale ha fatto bene. No, ma ragazzi, stai scherzando? Questo è un giocatore che ha fatto nove gol al Sassuolo e l'hanno prima a sette, mi sembra, da centrocampista. E come diceva Luciano prima, è un giocatore che mi ricorda tantissimo, ad esempio Antonio Conte, quando giocava, centrocampista, che era molto bravo a andare negli spazi, a cercarsi gli spazi in avanti. Perciò, detto questo, io non so cosa ne pensa la gente. Io penso che questo è un giocatore non forte di più. Fortissimo, che però nell'Inter trova poco... Insomma, non è più... Ma dipende chi è davanti. Hai Mkhitaryan, Cialanoglu e Varela. Moggi. Voi adesso fate una disquisizione sulle qualità di Frattesi. Frattesi, non so chi l'ha detto, è un giocatore che è arrivato in una squadra dove vanno tutti a mille all'ora, anche quelli più vecchi, anche Mkhitaryan. È difficile sostituirlo. Però la sostanza è quella che Frattesi sarà il ciclo dell'Inter, perché è giovane ed ha qualità enormi da mettere in evidenza e l'ha già messo in evidenza con i nazionali, con tutti quanti, perché criticare Frattesi è una cosa assurda in questo contesto. È un giocatore che praticamente con un po' più di esperienza sicuramente si farà un campione. Questo qui potrebbe essere un giocatore del futuro e sicuramente il giocatore che può sostituire in futuro Mkhitaryan, che ha 34 anni, può sostituire Mkhitaryan con tranquillità praticamente per il futuro dell'Inter. Quindi l'Inter, prendendo Frattesi, ha preconizzato un ciclo con dei giocatori e poi cerca di svecchiare la squadra, perché come dicevate prima c'è gente che è 34-35 anni in difesa, guardate queste cose qui vanno guardate dai dirigenti, per cui andare a fare dichiarazioni su queste cose qua diventa una cosa abbastanza difficile, perché se mi dite dei difensori che hanno 34-35 anni e vi dico che la difesa migliore del campionato, e voi cosa dite di fronte a questo? perché quei giocatori lì di 34-35 praticamente sono sempre migliori in campo e quando una società di calcio a questi giocatori li deve sostituire piano piano con dei giovani, perché altrimenti finisce la squadra. Ci sono tante squadre che hanno vinto dei campionati e poi dopo sono andate a finire male perché non hanno pensato alle varie sostituzioni. quello che dice Luciano è verissimo, ma non sempre avviene, perché se tu non hai dei dirigenti illuminati che non leggono nel progetto, sai quando era successo, visto che stiamo parlando di Inter, un caso clamoroso di una squadra che un dirigente si è fatto scoppiare in mano, Moratti con l'Inter del triplete, praticamente, ha fatto il triplete, aveva richieste per Maicon, per Milito, per chi più ancora, ha rinnovato tutti i contratti e poi alla fine si è trovata una squadra che li ha scoppiati in mano perché era troppo vecchia. Beh, ma l'Inter in difesa... questo, questo, vedi Paolo, potrebbe essere anche il caso dell'Inter di adesso, se non prendono provvedimenti e mi sembra che stiano già... ma perché io per esempio ho visto il nero là, come si chiama? Bistiche, Bistiche, e questo qui è già un giocatore che può fare il titolare, attenzione, è forte fisicamente, è a piedi discreti, è velocissimo, questi sono i giocatori che l'Inter deve portare avanti perché sono quelli che poi li costituiranno nel futuro. Poi hanno bastoni, 99, stanno cercando di prendere Chiavo Dialo, cioè Chiavo, Bistiche ha 23 anni, sì, sì, no, dico, infatti, infatti, per non arrivare a quel punto pericoloso. Pavar ha 27 anni, sì, sì, sì. Attenzione all'Inter, Barella, Barella, in Italia da rigore, grandissimo intervento sulla palla, Barella si dispera, ma secondo me ha ragione l'arbitro, attenzione che si riparte col Bologna, 109 di gioco, Endoia, va a puntare Carlos Augusto, attenzione, si converge verso il sinistro, poi va a cercare un compagno sulla fascia di sinistra, può arrivare il cross in mezzo, lungo sul secondo palo, attenzione ancora Bologna, c'è un giocatore a terra, arriva il cross, Zirze prova a arrivare con la testa, c'è l'anticipo di Acerbi, ancora Bologna in possesso, sulla sinistra con il cross deviato di schiena da Mkhitaryan, fallo laterale per il Bologna. Allora è vero che in zona d'attacco ma devo assolutamente andare, Tiziano poi parliamo di Fratesi, rientro scherzo, parliamo del tuo Milano. Ma è fatta la figura di Benza? Ho provocato un po', dai, abbiamo un attimo, capito che Fratesi è il futuro dell'Inter, e basta, me lo avete spiegato e io, perché soltanto i giuri di Comprendonio non cambiano un'idea, ho rivisto le mie posizioni. Però sei stato bravi a darti delle spiegazioni, a farti cambiare idea. Infatti io vi ho ascoltato, anche sporato di 20 minuti, mi piaceva ascoltare le vostre motivazioni pubbliche. Ben ritrovati, il calcio è proprio il gioco più bello del mondo, tutto può succedere, Filippo, è del successo. Sì, pareggio del Bologna, bisogna guardare la posizione del pallone, comunque adesso calcio d'angolo dalla destra, giro sul secondo palo, Odero scavalcato, la palla sta per uscire in fallo di fondo, Zirze arriva con un colpo di tacco, lo salva dall'auto e rimette a rimorchio la palla in mezzo, Buchema col piattone, segna il gol del 1-1, convalidato, tutto buono, centotredicesimo minuto, pareggia il Bologna con Buchema e adesso vediamo un po' che succede, perché siamo al centotredicesimo, sono sette minuti al centoventesimo e poi vediamo che risultato sarà. Tiziano, come commenti questo pareggio di un Bologna che tu hai sempre sottolineato quanto fosse forte come squadra e come gruppo. A me il Bologna piace per il tipo di gioco, stasera ha giocato meglio l'Inter, indipendentemente dal risultato, però simpatizzo molto per il Bologna, a parte che io sono romagnolo, migliore Romagna, quindi è caso mio. Bologna ha pareggiato e sono contento. Ti è tornato anche l'accento. Ci si può chiamare Buchema senza essere frattesi. E vedi, poi alla fine 1-1 i nomi non fanno gol, ecco, però la partita insomma, dai, adesso. Zirze ha fatto una giocata pazzesca, colpo di tacco gliela ha messa sul piede, una roba... Sì, sì, con la palla che usciva, alta, lui è andato a fondo campo, ha fatto il colpo di tacco al volo, spaglia la porta e l'ha messa, vabbè, poi non credo che volesse metterla sul piede di... però ha rimesso in mezzo una palla con un colpo veramente... Colpo dello scoppione. Un giocatore con talento. Mamma mia. Magari come quelli che chiami tu le seconde linee non la facevano quella roba di letto. Magari avere una seconda linea così in attacco. Può essere, Bergigia, lo vorrebbe, secondo me, Tramontana lo vorrebbe subito. Eh, ma Zirze è uno che ci avrà un mercato pazzesco, eh. Sì, sì, sì. Comunque, centoquindicesimo, cinque minuti alla fine, vediamo un po' chi ha la meglio alla fine, se si va ai rigori oppure se qualcuno riesce a spuntarla negli ultimi cinque minuti di questo infinito Inter-Bologna, come al solito, gli ottavi di finale di Coppa Italia per noi sono dei romanzi sensi. Limite dell'area di rigore, si gira si volta, poi largo per Di Marco, l'atto corto della rigore, ora il Bologna difende bene, però la palla è per Barella, limite dell'area, prova il filtrante, ma ci sono troppe maglie del Bologna, lì è intasare l'area di rigore, può ripartire. Allora la squadra di Tiago Motta, c'è buona guardia di Pavard, che riesce a togliere la palla all'avversario. Allora riparte l'Inter, attenzione a Mkhitaryan, che prolunga per... Devo andare in pubblicità, scusami Filippo, ma veramente, così seguiamo poi fino a 1, però c'è l'avanzata del Bologna. Andoie, Andoie, tutto solo in area di rigore, Andoie, palla sul destro, e Schaudero! Gol di Andoie, 2-1 per il Bologna. Gol Bologna, 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 chi ha dato la palla a Andoie, chi gliel'ha data? Zirze. Mamma mia, spettacolo il vantaggio, ma qui la faccia affranta di Barella, Golder, doppio, capovolge la situazione in Bologna nel giro di pochissimo. Ne parliamo dopo la pubblicità, facciamo riprendere Filippo, ci saranno subito in diretta, tra poco. Ben ritrovati, vado subito da Luciano Maggi per commentare questo vantaggio del Bologna, che ha capovolto in poco tempo tutto. Questo qui era tanti cercatori schierati contro due del Bologna, questo è grave, assumire una ripartenza del genere significa anche stanchezza della squadra, però io devo dire che è stata una partita combattuta e ripeto ancora una volta che il Bologna ha un allenatore e tanti giocatori che hanno i piedi buoni e agonisticamente sono validissimi. Sono tutti giovani, io sono convinto che se questa squadra non fosse toccata, fosse inserito un attaccante di razza, potrebbe fare anche molto di più di quello che ha fatto adesso. L'allenatore è sicuramente il top, in questo momento credo che sia una delle squadre che gioca meglio. Ovviamente l'Inter secondo me è superiore negli undici e lascia stare adesso che stia perdendo la partita. Sono partite un po' particolari queste qui dove vengono inseriti i giocatori, seconde, terze linee eccetera, però la sostanza qual è? E' che tutte e due le squadre hanno dimostrato praticamente di avere qualcosa di buono. E perdere col Bologna, con questo Bologna non è sicuramente un demerito, ma ci può stare con tutte le squadre di calcio italiane in questo momento. Il Bologna può vincere contro chiunque. Non è sicuramente tranquillità, ma può vincere contro chiunque. 30 secondi alla fine della partita, dopo il minuto concesso dall'arbitro, io serenamente posso tranquillamente dire che i due titolari del Bologna in attacco sono meglio delle nostre due riserve. Zirze e Ndoie sono due giocatori veloci, tecnici, forti, bravi negli inserimenti fisici, hanno tutto. Quindi 10 secondi al termine, lancio lungo di Sensi, aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro, mette fuori la Bologna. 5 secondi alla fine, Darmian fa carambolare il pallone su Zirze che fa ripartire. Finisce qua, vince il Bologna, l'Inter esce agli ottavi di finale di Coppa Italia, non la potrà difendere, non potrà difendere il trofeo vinto negli ultimi due anni. Passa il Bologna che gioca una grande partita, soprattutto nei supplementari, quando entrano i due davanti che approfittano della stanchezza abbastanza evidente della difesa dell'Inter e portano a casa la qualificazione. Complimenti al Bologna e noi abbiamo una competizione in meno da giocare. Allora, sicuramente fa male perché per due anni di fila l'Inter l'aveva vinta, poi uscire da un trofe. No, più che altro è che hai giocato 120 minuti, hai fatto male l'autaro, hai perso la partita, il peggio di così non poteva andare. Non poteva andare, insomma, quindi anche ovviamente c'è l'amarezza che rimane perché è uscire. E' vero che poi quando hai detto siamo fuori da una competizione c'è il rovescio della medaglia, ti puoi concentrare di più sulle altre due, hai meno energie da spendere, eccetera. Però... Beh, ma si gioca così ogni tanto che non è che una squadra come l'Inter fa i calcoli sulla Coppa Italia, cioè non è che giochi... Ma quanto fa male uscire da questa competizione così? Ma no, nell'ottica... E' vero che sei contro un grande Bologna, però... Ma no, ma secondo me... Ma mi hai fatto rimontare, ragazzi. Mi hai fatto rimontare in casa. Si hai fatto rimontare in casa. Psicologicamente non fa male perché hai perso contro una squadra che ha giocato bene. Secondo me è quello che può essere... Cioè, dovere crimini è il grosso dispendio di energie fisiche perché fatti supplementari, perché ci tiene il campionato, perché c'è una partita fra pochi giorni e perché c'è questo punto interrogativo sulle condizioni di Lautaro. Comunque questo è anche il discorso che la gente dice che Coppa Italia conta poco, non gli interessa a nessuno. Non è vero perché adesso abbiamo visto ieri il Napoli, oggi l'Inter, che quando perdono e sono fuori dai giochi sono tutti arrabbiati. Oggi c'è un crudello che ha in estes. Oggi è condivisibile anche questa speranza che l'Inter. inizia a spingere. Sorboletta alla crema. Anche questa speranza... Questa speranza che l'Inter magari qualche colpo in campionato lo perda, non che il Milan abbia velleità. Però è che abbiamo chiuso il campionato. No, no, no. Oggi, guarda, è stata una partita abbastanza complicata per l'Inter. Perché si fa il possibile infortunio di Lautaro. E poi 120 minuti. E poi c'è una partita di campionato che è importante per l'Inter. Quindi vorrei dire, tante cose li sono andate contro. In una partita che potrebbe vincere, attenzione. Perché, vedi, quando si sbagliano i rigori, quando c'è qualcosa che praticamente... Succede, succede anche di perdere partite. Poi Ravaglia, il portiere del Bologna, ha fatto delle cose eccellenti in alcuni momenti. Per cui hanno vinto veritatamente. Io sono estremamente convinto che col Bologna, lo ripeto ancora una volta, può perdere qualsiasi squadra del campionato italiano. Anche con un Bologna, rimaneggiato perché c'è comunque la mano di Tiago Motta. Ma vedi, prego? Roberto Pucci. Stava ribadendo, era contento. Crudeli è contento e rimarca. No, no, ma ha ragione ad essere contento. Sono una squadra emiliana, è la sua terra, quindi il problema non si pone. Si pone il problema dell'Inter in questo momento perché 120 minuti sono pesanti. e ripeto ancora una volta perché c'è giocatori come Darmia, c'è giocatori che sono abbastanza in là con l'età e quindi dimostrano in certi momenti stanchezza. La vivacità dei giocatori del Bologna ha avuto la meglio. L'ultimo gol sta a dimostrare che l'Inter era stanca e praticamente il Bologna è ancora fiato per andare. Questo è perché una ripartenza presa in quella maniera. addirittura due giocatori contro quattro o cinque giocatori dell'Inter e non ci sta a prendere i gol. Certo, qualcosa. Dimmi Giacomo. La sconfitta fa male perché comunque, ripeto quello che ho detto prima, c'è gente che dice che la Coppa Italia non c'entra niente. Non è vero. Però io spero e mi auguro per l'Inter che comunque la cosa più importante è che abbia poca roba Lautaro nel tipo che sul traspetto fisico sia solo una contrattura, un affaticamento. Salti legge al massimo. Ti posso fare... Giacomo, io da come l'ho visto, secondo me è più un affaticamento e un tirarsi fuori al momento opportuno. Precauzionato. Lui, Luciano, quando è finita la partita, quella normale dei 90 minuti, il massaggiatore prima di iniziare i tempi supplementari si è fatto massaggiare. si vedeva perché l'hanno inquadrato, si capisce che sentiva un affaticamento. Lui è entrato in campo e poi è uscito. Adesso l'entità io non so che cosa può avere. Però, ripeto quello che ho detto prima, cioè fa male uscire da una competizione anche se è la Coppa Italia, che secondo me è importante anche la Coppa Italia. Però per l'Inter io mi auguro e per Lautaro che sia una cosa di poco conto, che è la cosa più importante. Eviteremo giornate anche su questo in diretta perché, ripeto, aspettiamo gli aggiornamenti di Lautaro e le dichiarazioni di Inzaghi, dimmi. Io vi dico una cosa un po' fuori dalla regola. Certe volte fa comodo anche uscire dalle competizioni perché ci sono tante competizioni da fare e l'Inter come il Napoli, per esempio, ha tante competizioni da fare probabilmente molto più importanti, scusa se non te lo dico, della Coppa Italia. Ora, che siano usciti apposta è da escludere. Oltretutto l'Inter ha fatto la sua figura e il Napoli invece ha fatto una figura meschina di fronte ai ragazzini del Frosinone. Però possono trarre beneficio da queste uscite, facendo partite migliori poi nel proseguo che l'attendono, perché il Napoli si deve riprendere praticamente da quello che non ha fatto all'inizio. e l'Inter deve continuare praticamente in un'attività che ha dimostrato di poter fare molto, ma molto bene. Allora, voglio sentire, Paolo Bargigia, poi vengo da te Filippo per gli up and down, un po' totali, insomma, di questi minuti internazionali. Quelli del Bologna li fai tu, Crudeli. La maglia! Bargigia, cosa ne pensi? Cioè, il buono è che hai una competizione in meno dispendio di energie, più concentrazione su campionate Champions, però sei uscito, giocavi in casa. No, ma io non credo, io non credo che, cioè, io presuppongo che le rose di questi club, gli staff, i preparatori atletici, sanitari, siano così attrezzati, che non è che stare dentro in più di una competizione sia una di minuzio che ti può far perdere competitività nell'obiettivo più importante. Secondo me questo no, ci può essere qualcosa di inconscio, però nella fattispecie della Coppa Italia, cioè una roba che adesso hai giocato e poi rigiocherai, cioè non è una cosa... Secondo me il problema... No, secondo me la cosa ovviamente più bella di questa sera è che abbiamo visto una squadra come il Bologna giocare a calcio bene per lunghi tratti della partita, un po' meno nel secondo tempo, perché l'Inter c'è da dire che l'ha messa lì e l'Inter poteva vincere, ma ha avuto molte occasioni. Secondo me è l'unica... Vabbè, la nota negativa ovviamente è il risultato, ma vedere se questi 120 minuti incideranno, come diceva anche Moggi, su una rosa che in alcuni giocatori è un po' avanzata come età. Cerbi ha visto adesso ultimamente a Cerbi fare delle rincorse negli ultimi minuti che insomma, vuol dire, fa fatica. Cioè, un giocatore di 35 anni. Ed è normale che la faccia, insomma, non è poi tirando... Voglio solo dire una cosa che in questi giorni, e poi lascio la parola, in questi giorni è stato celebrato, piacerebbe sapere anche da Luciano cosa ne pensa, è stato celebrato un dirigente come Sartori, il DS del Bologna, perché si dice Tiago Motta li allena, ma Sartori come Bergamo, come Colchievo, è uno scopritore di giocatori pazzesco. Se tu pensi che Zirze l'ha pagato 8 milioni e mezzo, a bilancio, e Ndoie dal Basilea 9 milioni, parliamo di un 2001 Zirze e 2000 Ndoie, cioè, chiaramente c'è della gran lungimiranza nelle scelte. Non so, Luciano, cosa pensi di Sartori? No, è uno, è un dirigente che sa quello che vuole, e soprattutto si studia la squadra, come ha fatto con l'Atalanta piano piano, si studia la squadra, e poi mette le caratteristiche. Io sto vedendo dei giovani non interessanti di più in questa squadra, in questo Bologna, e sono attrezzati atleticamente, fisicamente, e soprattutto hanno pieti buoni, e non si danno mai per vinti, e questo potrebbe essere, anzi, no, potrebbe essere, è sicuramente anche l'allenatore che stimola i giocatori nel modo giusto, e dando degli obiettivi. Però, questi hanno tutti qualità. Adesso, quando parliamo di Zirze, abbiamo visto quello che ha fatto in altre partite, perché è stato sempre uno dei migliori. Forse il Bologna è attrezzato meno, magari ci vorrebbe un attaccante in più, davanti, che potesse stazionare più in area di rigore. Questo sì, ma se riescono a trovare anche questo, diventa una squadra da primi posti in Bologna. Sempre che, sempre che non vendano Zir, che avrà sicuramente un gran mercato. No, velocissimo. Però, Luciano, a Tiago Motta piace giocare con un centravanti di gran movimento come Zirze. È vero, è vero. Perché l'anno scorso arrivarono a te e dice... Lui non vuol dare, non vuol dare riferimenti. E poi, e poi secondo me è bello per il calcio italiano, perché dai, ieri abbiamo visto anche un'altra realtà, vabbè, un po' meno magari forse sul livello. Il Frosinone gioca benissimo a calcio, a giovani interessanti, vabbè, che alcuni sono in prestito dalla Juve, e anche lì il Frosinone ha un direttore sportivo. Potrei in prestito dalla Juve che sono i migliori, eh. Eh sì, sì. E di Lorenzis non li voleva neanche iscritti al campionato. No, e anche lì, se non sbaglio, il Frosinone ha un DS, un po' vecchia maniera, che Luciano conosce, che è Angelozzi. Comunque, è comunque la varia bella. Allora, devo andare in pubblicità. E poi, scusa, c'è un gran presidente, Stirpe, che oltretutto, praticamente, io ho conosciuto presidenti come Ferlaino, per esempio, che capiscono di calcio, e che possono fare anche gli osservatori. Stirpe, è uno che va a vedere anche personalmente i giocatori. Quindi, ha un avallo, praticamente, dal presidente, ed è lui bravo, praticamente, a fare poi le squadre e il Frosinone lo sta dimostrando.